ciao a tutti vi do il benvenuto nel primo episodio di elettricista fai da te oggi parliamo di interruttore che cos'è l'interruttore allora vi faccio vedere quello di casa mia allora l'interruttore è un dispositivo elettrico di comando che serve per interrompere il passaggio di corrente ora vi faccio un piccolo schema giusto da capire meglio allora nelle comuni abitazioni abbiamo la fase e il neutro e qui disegniamo la nostra bella lampadina eccola qua e qui disegniamo il nostro bell'interruttore cosa succede succede che la tensione passa nei nostri fili e arriva a una polarità ve la faccio vedere a uno dei due morsetti quindi si può vedere 1 e l l sarebbe la fase arriva e si ferma in questo punto una volta azionato l'interruttore cambia di stato e si chiude chiudendosi permette il passaggio della corrente fino alla lampadina facendo così facciamo con il nero sempre facendo così la nostra lampadina si accenderà se lo azioniamo nel lato opposto si riaprirà il contatto non permettendo più il passaggio della tensione elettrica dunque la lampadina si spegnerà ora vi farò vedere in caso di guasto come si può sostituire è una cosa molto molto semplice ciao a tutti allora come detto prima di effettuare ogni operazione mi raccomando se avete la possibilità come me di avere il contattore in casa fate questa operazione ok così è spento tutto quello che è collegato sotto non funzionerà più se non avete questa possibilità e avete un quadro elettrico apritelo e prendete tirate giù tutti 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 gli interruttori che vedete qualsiasi eccoci qua dopo questa operazione metteteci le mani tranquillissimamente mi raccomando sempre attenzione ciao a tutti allora per prima cosa smontiamo la placca eccolo qui dopo dobbiamo smontare il supporto eccoci come vediamo come avevamo detto in questo caso tramite questa presa c'è un ponticello questo filo marrone che va sull'interruttore che sarebbe la fase che poi se ne va da un'altra parte e con il filo arancione andrà alla lampadina allora noi adesso dobbiamo scollegare e togliere il frutto allora facciamo così vi ricordo che visto che ne siete tutti in presenza avete un telefono vi consiglio di farvi una foto eccolo qua abbiamo tirato fuori i fili ora togliamo tramite questi due fermi l'interruttore eccolo qui e adesso andiamo a prendere quello nuovo per cambiarlo ok facciamo la procedura inversa lo inseriamo e che sentiamo il click sentito ok rimettiamo i fili prima uno serriamo la vite quando avete due buchi vi consiglio sempre per fare un lavoro alla regola d'arte di utilizzare quello a destra per quale motivo perché la vite quando serra e la piastrina dietro a questo piccolo movimento è un lavoro fatto ad hoc mettiamo allentiamo un attimino mettiamo dato che ci siete serrate sempre tutte le viti queste qua oh scusate ok fatto adesso chiudiamo tutto ok questo è tutto adesso vado a tirare su un interruttore generale quello dell'ene e vediamo se funziona tutto ok e vediamo che nello sgabuzzino la luce si è accesa ok eccoci qua spero vi sia stato utile ciao a tutti ok ok eccoci qua eccoci qua eccoci qua